Ciao a tutti, sono studiata sul letto e sto per registrare il video sui miei 7 prodotti low cost preferiti in AXOLUTE, è il video in collaborazione con Donatella, quindi vi lascio tutti i riferimenti del suo canale giù nell'info box, ora mi ritaglio giusto questo spazietto e poi torno a studiare perché come voi sapete è iniziata una maturità, seconda prova fatta, quindi manca la terza e poi allora sto malissimo, quindi niente iniziamo subito, sarà un video veloce, breve, schietto perché appunto devo andare, primo prodotto dei miei 7 prodotti low cost non so se l'avevo detto, è assolutamente quest'acqua micellare di Garnier, la trovo strepitosa, cancella tutto quello che avete sul viso e va bene sia per gli occhi che per le labbra che appunto per il viso, io mi ci trovo benissimo, davvero lo adoro, è un maxiformato da 400 ml, so che costi mi sembra intorno ai 5 euro, forse un po' di meno e tutti ne parlano bene e capisco perché, perché è davvero eccezionale, mi piace un sacco, passando a un altro prodotto è questo del delante qui della DAV, della Minatalco, l'ho pagato 2 euro e trovo che sia buonissimo, mi piace un sacco, sono 50 ml di prodotto, l'odore è molto buono, resiste abbastanza, no cioè resiste nel senso e mi piace davvero un sacco, però voglio qualcosa senza alluminio, quindi se voi sapete, se voi avete da consigliare un indodorante che non contenga alluminio e neanche alcol perché se no non riesco a usarlo, se contiene alcol e che funzioni, scrivetemelo passato nell'info box, grazie. Niente, altro prodotto che mi è piaciuto tantissimo sono due correttori che vabbè vi menziono sempre, sono il Garnier, questo qua Roll On e questo qua dell'Istant Anti-Age di Maybelline, mi piacciono tantissimo l'Istant Anti-Age, non ve ne parlo neanche più di tanto perché sapete che Mezzomondo lo ama e io mi trovo favorevole all'opinione che ha del Mezzomondo su questo correttore, è buonissimo, non va nelle pieghe, dura un sacco, copre abbastanza ed è eccezionale davvero, io ce l'ho da settembre minimo, quindi ce l'ho davvero da tantissimo tempo e mi manca ancora un pochino di prodotto, cioè oddio non più di tanto. Io più che altro perché cosa faccio? Ho tolto la spugnetta che mangiava un sacco di prodotto, poi una volta lo giro due volte, poi premo verso il basso, ci metto il copiacchetto, fuoriesce il prodotto, lo prendo e lo applico, quindi tipo gioco al risparmio tantissimo con questo prodotto, però mi piace un sacco. E altro prodotto è il Roll On di Garnier, mi piace davvero tanto come Roll On, è giusto quella coprenza e lo sguardo un po' più luminoso, quindi trovo che sia davvero davvero buono, è il Pure Active se vi interessa. Questo qua lo so ragazzi, cioè sono, come si dice? Ripetitiva, però vabbè ragazzi io lo amo, lo sto finendo quindi vabbè. Lo sapete che lo amo ed è il mio fantastico fondotinta della vita ed è l'All Matte Plus Plus, qual che volete, di Catrice, nella tonalità 020 Nude Beige. Lo adoro, sono 30 ml, l'ho preso a novembre, mi è finito tipo in questi giorni, mi sta finendo, infatti in questi giorni devo girare e prelevarlo così. Mi piace tantissimo, l'ho fatto, l'ho fatto, no, ho fatto innamorare anche mia mamma di questo fondotinta, soltanto che lei in tre mesi, tipo una presidora o quattro, cioè mi dice così lei, boh. Lo adoro, mi piace tantissimo, uniforme, non ha una coprenza proprio lavatissima, ma quello che mi piace è l'uniforme, è come mi colora abbastanza il viso e come mi uniforma il viso, mi piace tantissimo, lo trovo eccezionale per 7,50 euro, 9 mesi mi è durato, va da dio. E ultimi due prodotti che probabilmente sono fuori dai 7 prodotti, 2, 4, 5, no, 6, 7, sono due mascara che possono avere un prezzo magari di sopra dei 10 euro, però comunque li trovate in qualche posticino, tipo io all'Acqua Sapone li ho visti a meno, o comunque li ho trovati in offerte, sono il Maybelline Ciglia Sensazionali, che sapete, la nuova uscita di Maybelline è buonissimo, almeno a me va... c'è stato un periodo che non mi piaceva, ma non so come vai, poi è ritornato in lui, mi piace tantissimo, lo sto quasi terminando, è quasi finito, questo è il suo scovolino, è in silicone e mi piace davvero un sacco, molto molto valido come mascara, ha questo effetto fu... eccezionale, comunque buono, altrimenti vi propongo il Rimmel, lo Scandalize, Rockin' Curves, 0,1 Black, c'è anche lo 0,0,2 mi sembra, Extreme Black, comunque sono più o meno uguali, stessa linea, cambia il colore del packaging che è un po' più scuro e quello la dice di essere estremamente nero, questo qua è il suo scovolino, come potete vedere è enorme e ha una forma alquanto bizzarra, però... scusate, ok... però mi piace un sacco, in curva, volumizza, io li applico entrambi, quindi mi viene proprio un effetto drammatico, però ve li consiglio anche, cioè separatemi in nel senso non per forza dovete comprarli entrambi, mi piace tanto anche questo e quindi niente, ve lo consiglio, se la trovate nella stessa cosa, però col packaging nero vi consiglio anche quello, io adesso ho preso questo come esempio, però potevo prendere benissimo anche l'altro, e niente, questi qua sono i miei 7 prodotti low cost preferiti, spero che il video vi sia piaciuto, faccio un in bocca al lupo ai tutti i maturandi e tutti coloro che hanno o magari qualcosa relativo a lavoro, scuola, di importante, e niente, io vi lascio come ho detto tutti i riferimenti del canale di Donatelle del video giù nell'info box, le mando un bacione enorme, mando un bacione anche a tutti voi, vi invito a iscrivervi al mio canale cliccando il tasto qui a basso, che non so se è giusto, o comunque ho qui, ho qui, qui a basso, mettere un semplice pollice in su, e niente, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!